Allora, questo è l'appello elettorale della lista che capeggio, la lista Rio Uniti, ed è un appello elettorale che vi consiglia di andare a votare. Non fate come è successo recentemente nel panorama politico nazionale, date una dimostrazione di civiltà e di educazione civica, andate a votare e poi votate noi, perché il nostro è un programma, è un progetto politico che merita di essere sostenuto. Non vi fate condizionare dalla politica vecchio regime, delle promesse, delle bugie, delle intimidazioni. Noi abbiamo dimostrato che le cose le sappiamo fare, abbiamo una squadra molto motivata, molto giovane, molto bella e molto determinata. Datele fiducia e vedrete che il territorio non potrà che beneficiarne.